Bentornati ragazzi in questo nuovo gran video Qua è Savix che vi parla E con una news bomba ragazzi Come ben sapete chi mi segue da ormai più di due anni Mi sono preso una pausa dai glitch di GTA 5 live Perché sinceramente Oltre a essermi un po' rotto il cazzo Perché sono sempre le solite cose che rigirano Ho iniziato a lavorare E mi impegna tante ore al giorno Diciamo proprio 10 ore al giorno Infatti sono appena arrivato a casa Ma raga era stato più forte di me Questa news ve la dovevo dire Ve la voglio raccontare Mi faceva piacere fare questo video E riniziare a comunicare con voi Anche per GTA 6 ragazzi GTA 6 I primi di dicembre ragazzi News ufficiale Rockstar Game Avremo il trailer di GTA 6 Se non erro ho letto da qualche parte Che sarà proprio il 6 di dicembre ragazzi Ma non ci sono palle Finalmente si sta avverando questo sogno Perché raga sono 10 cazzo di anni Che giochiamo a GTA 5 E non è mai successo nella storia videoludica Un gioco che durasse così tanto E così giocato E' una cosa assurda Quindi ragazzi niente Semplicemente questo video è un video informativo Dove vi voglio dire Che i primi di dicembre Vedremo il trailer ufficiale Di GTA 6 ragazzi Festeggiamo tutti quanti Ovviamente magari ne parlerò Quando uscirà il trailer Farò un video Faremo una live Ne parleremo E spero che il gioco arrivi Il prima possibile Arriverà nell'anno nuovo Quindi nel 2024 Ragazzi E speriamo il prima possibile Perché raga Lavoro O non lavoro GTA 6 Ha la precedenza su tutto Quindi sappiate già Che dal momento Che uscirà GTA 6 Sia se sto lavorando O no O se sono sulla luna Raga Ci saranno delle live Tutte le sere Giocheremo tutti quanti insieme Questo grande gioco Speriamo Bella raga Alla prossima Sbarabam 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 Grazie a tutti